Un viaggio per Quartu dove incontrare tante cittadine e cittadini e presentare i nostri progetti per la città di Quartu. Un viaggio in camper dove quindi poter anche sentire le strade dissestate alle quali metteremo mano all'inizio della nostra amministrazione, ma anche un viaggio in un camper, simbolo del turismo sostenibile che proponiamo. Questo è quello che faremo in questi giorni qui a Quartu. Grazie.